Ben trovati in questa lezione sui Learning Object. Obiettivo di questa lezione è fornire le conoscenze minime e il metodo di lavoro necessario per la realizzazione di un Learning Object. Vediamo insieme una prima definizione di Learning Object di Francesco Leonetti. Un Learning Object è un oggetto didattico, ossia qualcosa che favorisce l'apprendimento e agevola l'insegnamento. Potremmo dire che anche un libro è un Learning Object. Ma la differenza fondamentale tra il concetto di Learning Object e quello di libro, per come lo intendiamo oggi, è che un Learning Object generalmente adotta una comunicazione multimediale e interattiva. Di conseguenza, sempre Francesco Leonetti definisce un Learning Object in modo più preciso. Un Learning Object è una risorsa modulare in formato digitale, fruibile via web, descritto da metadati ed usato e riusato in contesti di apprendimento per raggiungere un unico e univoco obiettivo didattico. Terremo ben presente questa definizione per lavorare sulle fasi necessarie per la costruzione di un Learning Object. riassumendo quindi, un moderno Learning Object deve essere sicuramente multimediale e interattivo. Entriamo adesso un po' nel dettaglio di queste fasi di realizzazione cercando di spiegarle e dare qualche indicazione. Prima di tutto deve essere ben definito l'argomento e identificato in modo chiaro l'obiettivo didattico del nostro oggetto di apprendimento. Possiamo definire almeno quattro fasi. La prima è la creazione dello storyboard dello scripting. La seconda è quella della produzione vera e propria del nostro Learning Object. Poi avremo una fase di metadatazione e un'ultima fase di collaudo e verifica. Se il produttore del Learning Object è un insegnante il tutto partirà sicuramente da un'idea progettuale spesso anche da del materiale già esistente. Ci possiamo quindi trovare in due situazioni. Il materiale da utilizzare può essere preesistente sotto forma di appunti, dispense cartacee o qualsiasi altro materiale già in possesso e già usato dall'insegnante. Oppure il materiale sarà prodotto ad hoc secondo un apposito progetto multimediale. Il nostro Learning Object sarà realmente efficace se avrà un obiettivo chiaro, possibilmente unico e se sarà possibile misurare il suo conseguimento con una verifica, un'attività o quant'altro che dimostri la competenza acquisita da parte del discente. Vediamo la prima fase che è quella dello storyboard dello scripting. La prima delle quattro fasi. Daniela Castrataro afferma che lo storyboard sta alle Learning come un progetto architettonico ad un edificio. Lo storyboard di fatto è la sceneggiatura del nostro lavoro. È il progetto che rappresenta in modo visibile tutto il contenuto di ogni schermata grafica, media, sequenze di animazione del prodotto finale. Bene, con quali strumenti noi possiamo realizzare lo storyboard? Potremmo tranquillamente utilizzare carta e penna e i tradizionali fogli di carta. Nulla vieta di fare questo. È una progettazione di massima, anzi anche di dettaglio che va fatta con qualsiasi strumento. Possiamo però anche utilizzare meglio possiamo avvalerci di un programma di presentazione che lavora per schermate o per slide tipo PowerPoint. Sicuramente in questo modo il nostro lavoro sarà diciamo così agevolato. Passiamo adesso alla fase della produzione. Ecco, in generale per la produzione qualsiasi programma può andare bene. Qualsiasi programma che generi contenuti usabili nel web. Esistono però dei programmi specifici per la costruzione dei learning object che ci possono agevolare nel lavoro e soprattutto nell'ottica degli standard che in questo campo sono ormai abbastanza definiti anche se in evoluzione. Segnaliamo due programmi open source di questo tipo il primo è Excel Learning e il secondo è Xerte ma possiamo dire che in generale qualsiasi altro programma può andare bene soprattutto programmi capaci di creare dei filmati o delle animazioni in flash. Ci diamo alcuni come Wink Adobe Captivate Outdoor Point eccetera. Ecco, vediamo adesso anche un'altra fase importante che è la fase della metadatazione. Questa fase è importante proprio per la necessità di rendere riutilizzabile il nostro prodotto. non possiamo adesso affrontare il discorso della metadatazione in questa breve presentazione però è bene almeno sapere che i metadati contenuti nel nostro LO hanno proprio il fine di rendere il nostro lavoro classificabile e rintracciabile. Al termine del lavoro il nostro pacchetto sarà quindi convertito in un formato utilizzabile da qualsiasi piattaforma didattica come ad esempio Moodle. Il formato attualmente più diffuso è il formato SCORM. Come fare tutto questo? Ecco, esistono dei software alcuni open source come Reload che ci facilitano il lavoro della metadatazione e convertono poi il pacchetto in formato SCORM. Tenete presente che la conversione in formato SCORM viene fatta anche con i software autore citati precedentemente come per esempio Excel Learning e Xerte. Passiamo poi all'ultima fase che è quella del collaudo e della verifica. Il nostro Learning Object funziona solo se è efficace e facilmente utilizzabile. Prima di rilasciarlo quindi va provato va verificato va collaudato e va eventualmente corretto apportati gli eventuali correttivi che dall'analisi appena fatta possono ritenersi necessari. Bene, riassumiamo adesso quanto detto con questa mappa concettuale. La seguiamo un attimo insieme il Learning Object nasce quando ci sono determinate esigenze. Quando l'apprendimento diventa multimediale l'apprendimento si sposta sul web si vuole un apprendimento interattivo e personalizzato si vuole abbandonare l'ambiente cartaceo e la lezione tradizionale e la lezione frontale. Il Learning Object si può produrre in due modi o da dei materiali preesistenti o da un progetto multimediale. In ogni caso sono necessarie almeno quattro fasi di sviluppo per il nostro Learning Object. La prima fase è quella della progettazione e dello storyboard. La seconda fase è quella della produzione che può avvenire attraverso strumenti standard di produttività individuale avanzati facciamo riferimento alle CDL che ormai è diventato lo standard nelle scuole oppure come strumenti dedicati alla costruzione di Learning Object come Excel, Learning, Xerte o altri. La terza fase è quella della valutazione dei risultati e la quarta fase è quella della metadadazione che permette la rintracciabilità del nostro lavoro all'interno di repository ossia degli archivi disponibili che permettono a chiunque soprattutto se sono degli archivi aperti come oramai si cerca di fare di rintracciare dei lavori per poterli riutilizzare nei propri corsi. La metadadazione avviene attraverso dei software appositi come Reload che è quello che abbiamo segnalato nelle schermate precedenti. Bene, ringrazio a tutti per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro.